Il 15 dicembre è scattato l'obbligo vaccinale per il personale scolastico come stabilito dal decreto legge del 26 novembre. Ai non vaccinati sono stati notificati gli inviti a presentare entro 5 giorni la documentazione relativa o alla venuta vaccinazione o alla prenotazione del vaccino oppure l'esenzione. È una situazione sotto controllo tenuta assolutamente in ordine rispetto al gran numero di docenti e di personale che ho nella scuola. È stata notificata alle persone interessate e credo che non ci siano stati incidenti di sorta. All'Istituto Comprensivo 1 di Bassano sono una decina le persone tra docenti e collaboratori destinatari della notifica. Situazione più o meno simile anche nelle altre scuole del Bassanese. Una decina anche a Litis e a Remondini, un po' meno al liceo da Ponte, il doppio invece al Brocchi. Vedendo la piattaforma stamattina messa a disposizione dal Sidi, la maggioranza del personale scolastico era in regola, quindi siamo in una buona posizione. Fondamentali saranno i prossimi giorni. Nel frattempo i non vaccinati possono continuare a lavorare con tampone negativo in attesa di presentare i documenti. Nel momento in cui una persona decidesse di non presentare nulla è chiaro che si applica la normativa e si deve passare necessariamente alla sospensione del servizio. Mi auguro e auspico che siano ridotte queste condizioni e quindi mettano soprattutto gli studenti nella condizione di avere meno disagio possibile. Se manteniamo tutti un senso di collaborazione e di tranquillità forse riusciamo davvero a gestire questo particolare momento.